Pochi sono i problemi per Fabio Grosso che contro il Cesena schiererà una formazione quasi al completo con i soli assenti Sabelli, Masi, Infortunati e Moras squalificato. L'obiettivo è chiaro, partire col piede giusto con i tre punti. Mi aspetto una squadra forte, organizzata, pimpante e che come noi avrà voglia di iniziare bene il campionato. Hanno fatto un'ottima partita contro una squadra di Serie A nell'ultima loro prova ufficiale. Hanno continuità di idea perché continuano a lavorare con lo stesso allenatore dell'anno scorso, anche se qualche interpreta è cambiato. So che arriverà una squadra che avrà voglia di metterci in difficoltà. Toccheranno iniziare, saremo l'ultima gara che completerà la prima giornata e abbiamo voglia di farlo col piede giusto, abbiamo voglia di mettere in campo tutto quello che abbiamo per provare a portare a casa un risultato positivo. Un ex bianconero è Franco Brienza, fantasista che in Riva al Savio ha lasciato ottimi ricordi. 8 gol in 31 presenze in Serie A due stagioni fa. Vogliamo farci trovare pronti, lavoriamo per quello da un mese e mezzo, quindi è una partita importante perché Cesena è una buona squadra dove gioca un buon calcio, quindi è una partita difficile. Dobbiamo lavorare per stare aggrappati al più possibile ai treni che passano, perché comunque dobbiamo lavorare con entusiasmo, con serietà. È una squadra giovane, quindi l'entusiasmo non dovrebbe mancare. Grazie. 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 Grazie.